Abbiamo qui ai nostri microfoni l'allenatore della Santarelli Cingoli, Sergio Palazzi. Innanzitutto complimenti per la prestazione oggi dei suoi ragazzi e ti chiedo due punti che in chiave salvezza forse valgono doppio contro una grande squadra, con una squadra che non ha mai mollato fino all'ultimo secondo. Quindi una bella reazione d'orgoglio dei tuoi ragazzi. Sì, sono contentissimo, siamo contentissimi penso che chi ha visto la partita l'ha visto. Volevamo vincere questa partita, sembra una cosa banale, sembra una cosa che va fuori di tutto ma volevamo vincerla e sapevamo che potevamo farla e ci portavamo dietro qualcosa di cinque mesi fa, la partita di andata a casa loro che era di nuovo andata così, solo che al contrario eravamo noi quelli in svantaggio che abbiamo rimontato. Cassano è stata brava a metterci in difficoltà con la 5-1, non l'avevamo preparata così abbastanza da far loro male, ma siamo stati bravi cambiando soluzioni a trovare i gol nei momenti decisivi. In difesa molto bene, soprattutto nei primi 20 minuti, poi un po' di alte e bassi. Ancora una volta Cassano aveva trovato il punto debole della nostra difesa, ci ha mosso con gli incroci e ha segnato parecchio. Dall'altra parte però anche Andrea Collevori ha parato parecchio, soprattutto nei momenti decisivi. Dobbiamo vedere cosa hanno fatto le altre, ma intanto sono due punti, li aggiungiamo al bottino e mancherà qualcosa meno alla salvezza. Sì, dopo un primo tempo su cui la tua squadra era andata anche sul più 6, quindi poi nel secondo tempo abbiamo visto la squadra un po' stanca anche per le poche rotazioni, ma poi alla fine l'orgoglio dei tuoi ragazzi hanno fatto sì che portassero a casa questa partita e i due punti importantissimi. Sì, è iniziata proprio come avevamo previsto. Abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, abbiamo corso come dovevamo fare, sapendo che Cassano veniva dall'esperienza della Coppa Italia, che era un'esperienza non solo faticosa fisicamente di giocare tre partite in tre giorni, ma soprattutto mentalmente non è facile dopo tre partite in tre giorni, dopo le emozioni che ti porta via la Coppa Italia, star da subito con la testa dentro la partita. Dovevano mettersi in ritmo, dovevano mettersi in partita, infatti l'hanno fatto. Io credo che nel secondo tempo più che la stanchezza sia stata un po' la lucidità al tiro, perché siamo praticamente quasi sempre arrivati sui 6 metri e abbiamo mancato dei tiri. Abbiamo leggermente aumentato le palle perse, abbiamo soprattutto fatto delle perse gratuite. Ok, Bortoli è un polpo lì in mezzo con quelle braccia, però glieli abbiamo messo in mano. I Bortoli è un capolavoro in questo come centravanti, ma siamo stati noi molto ad aver fatto per far sì che Tomi oggi difendesse anche oltre le sue capacità. Però alla fine l'abbiamo portato a casa, sempre con un po' di sofferenza, ma ormai ci siamo abituati e forse probabilmente questa abitudine fa sì che ora ci arriviamo meglio nei minuti finali anche nella gestione della partita. Grazie Sergio Palazzi, complimenti ancora per l'ottima partita e a risentirci alla prossima occasione. Grazie, ciao a tutti. Abbiamo qui ai nostri microfoni Davide Colez, tecnico del Cassano. Innanzitutto complimenti per comunque una partita combattuta, tirata fino all'ultimo secondo. La prima cosa che ti chiedo è, ti aspettavi un Cingoli così? Sì, assolutamente. Prima di tutto grazie dei complimenti che non esistono. Faccio i complimenti veramente al Cingoli. Il Cingoli oggi è entrato in campo con una mentalità totalmente diversa e loro oggi volevano vincerla a tutti i costi e di fatti veramente non mi sorprendono perché tutte le partite in casa sempre le portano all'ultimo, o vincono o perdono, ma perdono di poco o pareggiano. Ma per me oggi è meritato veramente Cingoli. Pensi che le energie spese in Italia, dove avete disputato un ottimo torneo, energie non solo fisiche ma anche mentali, abbiano un po' influito oggi sulla prestazione dei tuoi ragazzi? Assolutamente no, perché alla fine sono passati sette giorni, eravamo veramente stanchi, sì, ma abbiamo scaricato tutta la settimana. Il problema grande è stato proprio questo, essere ripagati. Noi di solito abbiamo sempre fatto fatica in campionato ultimamente, poi giocando queste tre partite a questi livelli c'è sempre questa cosa di pensare, adesso oramai siamo arrivati, invece è proprio successo quello che temevamo. Non tolgo niente al Cingoli perché Cingoli oggi ha meritato completamente. Noi oggi sono proprio deluso, veramente deluso. Una mia curiosità, ti ho visto spesso, ti guardavo in panchina, che hai richiamato più volte Alessio Moretti, a cui dispensavi dei consigli. Cosa vedevi oggi in Alessio, magari un Alessio un po' sottotono? Ho visto un attimo che l'hai tolto spesso dal campo, così volevo sapere se era un discorso tecnico o quant'altro. Ma no, non è Alessio, in generale il problema è che quando non sappiamo gestire le partite, tante volte, specialmente quando andiamo sotto, questo si è visto contro Conversano, questo si è visto oggi, tante volte siamo ritornati, quando ritorniamo facciamo delle banalità e invece di cercare di essere lì calmi per portare quell'azione a termine come si deve, oppure una difesa più solida, facciamo sempre qualcosa che non va e mi ero arrabbiato in quel caso perché è sempre una frenesia di cercare di subito di recuperare e il problema è che le partite quando vanno così bisogna avere un po' di pazienza in certi momenti e noi tante volte non l'abbiamo, quindi adesso dobbiamo lavorare su questo ma soprattutto dobbiamo lavorare dal mio punto di vista sulla mentalità e sull'umiltà perché questa è l'unica cosa che ci ha caratterizzato in Coppa Italia e perché in Coppa Italia siamo arrivati lì dove siamo arrivati perché temevamo tutti sempre dal primo all'ultimo secondo e eravamo compatissimi tutto il tempo, questo ci ha caratterizzato e oggi questo non l'ho per niente visto, specialmente i primi dieci minuti che sono stati devastanti. Grazie Davide, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e un arrivederci, alla prossima. Grazie.